Musica Bene a tutti ragazzi, io sono Jesse con questo nuovo video dopo un sacco di tempo E in questo video siamo sulla beta di Black Ops 4, modalità Black Ops, che sarebbe tipo Battle Royale Vediamo subito perché è la prima partita che faccio da quando ho scaricato la beta perché l'avevo messo a scaricare due giorni fa Ma naturalmente con la mia grandissima sfiga si è partita al router Quindi ciao ciao download, sono dovuto andare a comprare un altro porco, schifo Però se non c'è sempre qualcosa non siamo contenti Benvenuto alla beta, sì sì sì, ok Singolo zombie multigiocatore, singolo c'è solo Black Ops Personaggio, ah si può pure scegliere personaggio, va bene Tu, Mendes, prendo Mendes perché mi ricordo tanto un attore di una delle mie serie TV preferite Completa squadra, sì va bene Vediamo un po' com'è la situazione Non ho la minima idea di come sia perché non mi sono voluto spoilerare niente Ok signori, eccoci qua, siamo 88 nella partita Ci si può buttare quando vuole, la mappa non mi sembra esageratamente grande A meno che non si vada anche sulle montagne, mi sembra che si stia solo sotto Direi che è più o meno come quella di H1Z1 come grandezza Forse è un filo più piccola Dire che è grande come quella di PlayerUnknown mi sembra esagerato Non ho la minima idea di cosa sto facendo Cioè in realtà sì, giocando qualche battle royale ho la minima idea di cosa sto facendo Però non ho la minima idea di come andrà a finire Sarà un fiasco totale, ne sono abbastanza convinto Soprattutto perché non gioco veramente da tanto tanto tempo a COD in generale Quindi per quanto sia diverso rimane un COD Vediamo un po' Ah bella sta cosa che puoi trovare anche gli upgrade e te li mette automaticamente Quindi inventario, usa leggero, usa paranoia Boh vedremo Un altro mirino, perfetto Morirò malissimo, ne sono già sicuro Esattamente Posizione 66 ma è Se non mi metto lì a fare il pirla io No 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 ma questa cosa è bellissima È qualcosa di fantastico Salta Guarda che figata Ok devo dire che per come battle royale non mi sta dispiacendo tantissimo Cioè Rispetto ad altre coppie Tipo H1Z1 mi piaceva Di più di H1Z1 forte Non mi è piaciuto per niente Cioè il genre battle royale mi piace o non mi piace Cioè dagli aspetti che mi piacciono altri Però Vedremo Adesso tanto sono una beta Io direi Ecco questa è tutta la mappa Io direi che mi potrei andare Noi siamo qui Qua Io non conosco le mappe Non so i punti I punti strategici Quelli affollati Quindi Non ho la minima di come andrò a finire Anche questa volta qua Però mi impegnano di più Perfetto Già non spawn Il Il paracadute Ma vabbè No questo è un ciuffo d'erba Qua Ok Vai vai Piglia tutto Piglia tutto Ecco prima ho trovato 40 armi Adesso non ho trovato niente ancora Eccola Quando si dice chiedi ti sarà dato Caricatore Ok sono già dentro la safe Ok Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho No 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 grazie Cacchio Cioè Cioè ti ho sparato per 3 ore E non muori Tu mi spari una volta E muoio Vabbè Dobbiamo ancora rivedere ste cose Però Ok ragazzi Ultima partita E speriamo che vada Un minimo bene Almeno entrare nella top 50 Almeno quello Voi dite Entrare nella top 50 Cioè non è che ti fai degli obiettivi Un po' troppo miseri Per me Che io non sono un esperto Del genere Va già bene Va già bene Io punterei a quelli Magazzini Raggiù Che tanto li raggiungo Senza problemi Senza problemi C'è già qualcuno Però è uno da solo Credo Spero No Sono già due Io vado Raggiù Si possono aprire i portoni E c'è una porta È permesso Ci è qualcuno Io prendo Eh Io prendo Allora Ok Se adesso mi do in arma Dopo tutte ste Porco Ok Non è Buono Però Prendo un po' di roba Certo Trovassi anche il giubbotto Antiproiette Schifo Non mi farebbe Perfetto Questo è un po' un pazzo Questo non ho idea Di cosa sia No Eh Dove sei Non avevo dubbi Fallimento Totale Ma mi allenerò E forse ci porterò Anche il video Prima che esca il gioco Tanto vi porterò Poi l'unboxing Della edizione speciale Che ho preordinato L'edizione speciale Quindi Niente Faccio schifo Nei Battle Royale Non c'è niente da dire Mi è stato un piacere Non vedo la riprova Il Black Ops 4 Diciamo Nelle altre modalità Più che Black Ops Però vabbè Da Jason è tutto Ciao A tutti Ciao 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 Ciao